Carissimi lettori e carissime lettrici, ben ritrovati e buon pomeriggio da Valentina. Siamo giunti al quarto appuntamento dell'iniziativa Natale in Biblioteca 2020. La storia che vi voglio leggere oggi nasce da una bellissima amicizia, tra l'autrice e l'illustratrice di questo libro, intitolato I segni del Natale, scritto da Cristina Rondini e illustrato da Elena Fabi, pubblicato nel 2012. Dovete sapere che Elena e Cristina sono due insegnanti che lavorano da tanti anni in una scuola primaria di Milano e trascorrendo molto tempo insieme, come capita anche alle vostre insegnanti, hanno riscoperto la passione per il Natale e hanno così deciso di raccontarci in questo libro il Natale come una tradizione molto antica, fatta di segni particolari, ma che è e sarà sempre presente nelle nostre vite e nelle nostre famiglie. Sono le sei di un sabato pomeriggio di metà dicembre e Anna, otto anni, gironzola per casa cercando di decidere cosa fare. Suo fratello sta studiando, papà legge il giornale e la mamma sta indossando il cappotto per uscire. Dove vai? Chiede Anna curiosa. Devo fare alcune compere prima che i negozi chiudano. È già tardi, risponde la mamma. Posso venire anch'io? Chiede inaspettatamente Anna. Ma sono ricorsa e devo andare in vari negozi, ti annoierai. No mamma, risponde la bambina, preferisco venire con te. Non ho voglia di stare in casa. Eh va bene, risponde un po' spazientita la mamma, ma promettimi che farai la brava. Anna si prepara velocemente e segue ricorsa la mamma che sta già scendendo le scale. Fuori è buio e la nebbia autunnale riempie gli spazi tra le case. Prima tappa, il supermercato. Appena le porte automatiche si aprono, Anna viene investita da un insieme rutilante di suoni e colori. Dal soffitto pendono pacchi infiocchettati così grandi che potrebbero contenere chissà quali doni e grosse palle di Natale dorate che sembrano dondolare ritmicamente al suono della musica diffusa dagli altoparlanti. Venditori travestiti da babbo Natale offrono ai clienti invitanti cioccolatini, mentre i commessi riempiono freneticamente gli scaffali più in vista, con i vari tipi di panettoni, dal classico a quello farcito di Nutella. La mamma, già immersa in questo turbinio di suoni, colori e profumi, spinge il carrello. Intanto Anna la segue un po' sbalordita, ma si ferma all'inizio di ogni corsia, dicendo «Mamma, posso stare qui a guardare le cose di Natale?» «Sì», risponde la mamma, «io vado a prendere la frutta». «Ma tu aspettami qui e non ti muovere!» Anna sente in lontananza le parole della mamma perché è attratta da ciò che ha davanti. Uno scaffale straborda di luci colorate che si accendono a intermittenza, palline decorative di plastica e di vetro, nastri, fiocchi, candele. Su un altro sono ordinatamente disposti in fila tanti pastori, madonnine, statuine di San Giuseppe, Gesù Bambini, Re Maggi, pecorelle, stelle comete, capanne e sacchettini di moschio. Mentre osserva tutta quella varietà, Anna pensa «Speriamo che il papà porti su, presso dalla cantina, gli scatoloni per fare il presepe. Mi piace un sacco giocare con le statuine, anche se la mamma non vuole, perché dice che non sono bambole. I pensieri della bambina vengono interrotti. Anna, andiamo?» La mamma la prende per mano e la trascina verso le casse. Seconda tappa, la libreria. Per raggiungere il negozio, mamma e figlia attraversano il ponte pedonale e si fermano ad ammirare le luminarie che si sperchiano sulle acque lente e scure del naviglio. «Che bello!» esclama stupita Anna. «Ma perché le mettono solo per Natale?» chiede la bambina. «Poi ti spiego. Ora dobbiamo andare», risponde di fretta la mamma. Arrivati in libreria, un altro spettacolo lascia la bambina sbalordita. Al centro del negozio campeggia un abete vero, tutto decorato con le copertine dei libri, che sono consigliati come regali di Natale. Rapidamente la mamma sceglie un libro da regalare alla zia Luciana, che compirà gli anni tra una settimana. Mentre la commessa prepara il pacchetto, Anna chiede sottovoce alla mamma, tirandole l'angolo del cappotto. «Mamma, perché la commessa usa la carta con gli alberi di Natale? Che cosa c'entra con il compleanno di zia Luciana?» «Niente», risponde la mamma, «ma in questi giorni hanno solo questa carta». Caparbia la bambina insiste. «Ma perché Natale è una festa? È la festa di chi? Perché si fa l'albero, il presepe, si mettono le luci, si mangia il panettone, che a me non piace perché ci sono i canditi. Perché? Mi rispondi, mamma?» A quel punto la mamma si ferma un momento, quasi ridestata dalle domande insistenti della figlia, e guardandola negli occhi risponde. «Hai ragione, andiamo a casa. Ho proprio in mente qualcosa che può servire per rispondere a tutti questi perché». Appena rientrate, la mamma sparisce in camera sua e Anna la vide tornare subito dopo con un libro in mano. «Ecco, questo può aiutarci a fare un po' d'ordine e di chiarezza». Anna legge il titolo. «I segni del Natale». «Bello! Lo leggiamo insieme!»